È una settimana calda per i Liguri eletti in Parlamento. Riunioni, congressi e viaggi a Roma riempiono l'agenda fin da adesso. Sono 15 i politici che, all'alba della diciannovesima legislatura, rappresenteranno la Liguria a Roma. Il Levante ne porta 4. Il deputato uscente di Forza Italia, Roberto Bagnasco, che nella sua rapallo ha ottenuto il 51,8%. La sindaca di Sesti Levante, Valentina Ghio, segretaria regionale del PD, che ha portato il partito ad essere primo in città con il 28,5% contro il 23% di Fratelli d'Italia. All'opposizione siederà poi Roberto Traversi, anima dei Cinque Stelle del territorio, alle spalle un incarico da sottosegretario alle infrastrutture. L'indipendente Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco da tre mesi, è pronto al terzo mandato in Parlamento. Ha vinto al fotofinish contro Sandro Biasotti. Tra gli altri eletti, due assessori regionali, Ilaria Cavo, di Noi Moderati, responsabile a cultura, scuola e politiche sociosanitarie, e Gianni Berrino, oggi alla guida di lavoro, trasporti e turismo, esponente forte di Fratelli d'Italia. Per la Lega siederanno in Parlamento Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone. Il Movimento Cinque Stelle schiera anche Luca Pirondini, consigliere comunale di Genova. Per Fratelli d'Italia sono stati eletti anche Roberto Menia, capolista in Liguria, ma nato a Pieve di Cadore e Tristino da sempre, il coordinatore Ligure Matteo Rosso, e Maria Grazia Frigia, che da poco aveva ottenuto l'incarico di vice sindaco alla Spezia. Il PD porta a Roma, in minoranza, anche Lorenzo Basso e riconferma Andrea Orlando, ministro al lavoro e alle politiche sociali nel governo Draghi. A tutti loro si aggiungono due Liguri eletti altrove, Raffaella Paita, di Azione Italia Viva, vincitrice in Lazio, presidente uscente della Commissione Trasporti alla Camera, e Anna Maria Furlan, del PD, eletta nella Sicilia occidentale.